E-commerce, e-commerce per tutti, e-commerce facilissimo, basta metterci su un sito e fare e-commerce, no, non si fa così. Se volete fare e-commerce e volete vendere beni, state attenti perché i beni devono essere trasferiti fisicamente. Allora, possono essere tanti modelli per farlo, potete farlo facendo soltanto gli intermediari, quindi poi dopo sono cavoli di coloro che si devono scambiare bene, chi lo offre e chi lo acquista, di trovare un modo di trasferirselo, ma se volete fare business grossi, volete diventare, come dire, concorrenti di Amazon, attenzione perché l'e-commerce in realtà è la cosa meno virtuale che esista, dietro c'è un supporto logistico spaventoso e oggi Amazon è appunto probabilmente questo, l'esempio di un investimento in logistica colossale e di una vera e propria specializzazione della logistica. Quindi, molta attenzione, e specialmente laddove i beni che volete vendere sono beni che hanno margini bassi, di non fare gli errori che sono stati fatti in passato, c'è un caso famoso, c'è un caso di un supermercato americano virtuale dei primi anni 2000, Webban, che aveva costruito un business tutto virtuale, aveva investito 2 miliardi di dollari nell'infrastruttura e dopo 3 anni questi 2 miliardi di dollari sono volatilizzati e Webban è sparita. Attenzione, ancora, se volete fare delle applicazioni di e-commerce nel settore a basso margine, quindi sostanzialmente nei settori che corrispondono a quello che trovate in un supermercato, che il supermercato è proprio nato per far fare fai-da-te al consumatore, che si sposta mediamente di parecchio, entra nel punto vendita, scarica lui dal magazzino il prodotto, se lo mette in un carrello e se lo deve poi trasportare a casa. Se volete fare i comisi in quel settore, in buona sostanza quello che fate è caricarvi voi di tutto quello che fa il consumatore.